Resilienza. Io ho cercato di portare un contributo al tema del piano su un problema di amnesia che molto spesso vedo attraversare i pordenonesi, la società della città, un'amnesia rispetto alla componente fisica del territorio, alle possibilità che questa componente fisica può avere anche rispetto al piano. Quindi anche sulla base delle cose che faccio, di solito qui a Pordenone, ho inserito alcune immagini, alcuni oggetti territoriali che non sono molto conosciuti, ma soprattutto l'idea che volevo portare all'amministrazione comunale è quella di accompagnare anche con un osservatorio sul paesaggio urbano, inteso proprio nella sua componente fisica il piano, proprio perché venga riconosciuto quello che è il valore di alcuni oggetti territoriali, ma anche di alcuni edifici singoli, di alcune componenti decorative, perché questi edifici hanno una loro storia molto importante che molto spesso non viene fatta proprio da parte della città, anzi viene a volte anche, come dicevo prima, dimenticata. C'è questa forma di amnesia anche rispetto ad oggetti come questo progetto per casa Tomadini di Pietro Zanini. Ecco, questa è la cosa che volevo sollevare, l'attenzione a questa arte, a come la città possa essere, come diceva Zitt, un elemento artistico anche, ed è comunque il prodotto della cultura, della popolazione che questa città l'ha abitata. Allo stesso tempo volevo porre l'attenzione sul fatto che ci sono alcuni oggetti monumentali, pubblici e particolarmente importanti, che erano stati costruiti con finalità legate proprio al tema della socialità. E quindi questi edifici, secondo me, perdiamo un'occasione se non li usiamo in questo frangente molto particolare, per cui c'è appunto bisogno di rigenerarli, utilizzando proprio l'elemento della socialità. In modo particolare questi oggetti sono l'ex casa del fascio, quella conosciuta come la riete, la casa del mutilato e l'ex Monte dei Pegni, l'ex biblioteca. Questi non sono solo edifici belli, sono edifici che volevano rappresentare una certa idea di città. Il dibattito su cosa fare di questi tre volumi vuoti è un dibattito estremamente importante, che pone i problemi su cosa vogliamo andare. Un po' come queste ultime foto che vi sto facendo vedere adesso, fotografate negli anni 60 dall'alto, rappresentano in qualche modo quella che era l'idea negli anni 60 della città, cioè una città che assumeva il carattere di un'urbanità e veniva vista da queste posizioni alte, dai tetti di questi grandi condomini che venivano costruiti. Adesso io dico, torniamo un attimo indietro, torniamo alla base, entriamo all'interno di questi edifici, due del 1930, uno ben più vecchio, uno del settecentesco, quello dell'ex Monte dei Pegni, l'ex biblioteca, e utilizziamo questi edifici non per collocarci, e questa è la raccomandazione che volevo far passare, non per collocarci dei servizi a una scala territoriale più ampia, ma proprio per portarci all'interno attività che servano a rappresentare quella che è una nuova idea di città, una città che costruisca relazioni, una città che sia aperta, non ci interessa, personalmente lo vedrei sprecato l'arrivo della prefettura in quel posto, la prefettura può stare benissimo nel Bronx, se invece le piazze che ci sono di fronte a questi edifici, le stesse piazze che come avete visto prima Filippone progettava nel 1936, se queste piazze, se questi spazi con i quali dialogavano questi edifici possono essere recuperati in qualche modo, diventeranno degli elementi di maggior carattere, daranno un maggior carattere alla città, permetteranno alla città di essere appunto più trasparente, più viva e rigenerarsi. Tra l'altro sono appunto edifici, tutti e tre, questa la casa del mutilato e anche la ex biblioteca, che hanno questo valore monumentale, quindi monumentalizziamo la socialità, questo è il messaggio ospitando la socialità e quindi facendoli diventare dei luoghi di socialità, importante.